Ha presentato la sua squadra per le prossime elezioni politiche Giuseppe De Mita, capolista di Civica Popolare per la Camera dei Deputati nel Collegio Avellino Benevento. Oggi pomeriggio nella sede del comitato erano presenti il coordinatore della campagna elettorale Giuseppe del Giudice, il consigliere regionale Maurizio Petracca, il candidato al Senato nel Collegio Plurinominale di Avellino Benevento e Caserta, Raffaele Lanni e il presidente Ciriaco De Mita. Il candidato Giuseppe De Mita ha fatto un'analisi della sua candidatura, il punto di partenza non è il passato ma il presente, ha detto. Non abbiamo mai avuto posizioni pregiudiziali nei confronti del Partito Democratico, i miei voti in Parlamento hanno sempre avuto una motivazione, non sono stati mai pregiudiziali, a volte sono stati a favore, a volte sono stati contro. Il punto di intesa in realtà è sui problemi che abbiamo davanti, in questa campagna elettorale, prima ancora degli schieramenti, credo che la questione con la quale ci misuriamo sia questa condizione di angoscia esistenziale delle persone. La risposta non può essere la drammatizzazione dei problemi, la risposta non può essere la destra. Noi abbiamo stretto un'intesa con il Partito Democratico su questa prospettiva, non è un'intesa episodica, non è legata a una convenienza contingente. Perché di fronte ai problemi del presente io vedo l'avanzare di due destre. Una è quella berlusconiana, il tardo impero berlusconiano legato a un grumo di interessi, basta guardare le candidature, sono episodi personali. E l'altra è quella grillina, la destra grillina è il problema più grave.